Buongiorno a tutti ai microfoni di Occhitalia Parliamone. Oggi abbiamo Alessandra Procesi, la responsabile dell'Ufficio Convenzioni Internazionali per il Commercio Estero di Union Camere. Le chiusure e le limitazioni che sono state imposte in Italia, come d'altronde in tutti i paesi del mondo, mettono molte imprese in crisi nell'adempimento di forniture e servizi già contrattualizzati. Diventa quindi prioritario per il nostro paese il riconoscimento dell'emergenza Covid e delle connesse misure di urgenza adottate per contenerla come causa di forza maggiore. Il Ministero dello Sviluppo Economico ha diramato ad Union Camere, alle Camere di Commercio, alle associazioni di categoria imprenditoriale una circolare sulla possibilità per tutte le Camere di Commercio di rilasciare alle imprese una dichiarazione sullo stato di emergenza conseguente all'epidemia Covid-19 e sulle restrizioni imposte dalla legge per il contenimento dell'epidemia stessa. Queste dichiarazioni saranno rese e rilasciate in lingua inglese e con riferimento ai contratti con controparti estere affinché le nostre imprese possano esibirle a queste ultime per giustificare l'impossibilità di assolvere nei tempi agli obblighi contrattuali già assunti per motivi imprevedibili e indipendenti dalla volontà e capacità aziendale. Le clausole presenti in molti contratti di fornitura con l'estero comportano infatti la necessità di produrre tali attestazioni per poter invocare la forza maggiore. Chiarisce benissimo questo concetto ai nostri microfoni Alessandra Procesi. Vediamo il contributo. Ringrazio innanzitutto che a Italia Parliamone per l'opportunità di poter parlare di una delle iniziative che le Camere di Commercio stanno mettendo in campo per assistere le imprese in questo difficile momento di crisi determinato dall'esplosione del Covid-19. Le Camere di Commercio operano a sostegno del commercio internazionale oltre che con molte iniziative di promozione e assistenza alle imprese per diffondere il Made in Italy nel mondo, anche con una serie di attività di supporto per la risoluzione tecnico-operativa di formalità e procedure sulle quali le operazioni di commercio internazionale si fondano. Si pensi alla certificazione dell'origine dei prodotti, agli strumenti doganali e alle documentazioni per il credito documentario internazionale. Questa linea di attività è tra l'altro una prerogativa delle Camere di Commercio in quasi tutte le aree del mondo. Ed è in questo quadro che il Ministero dello Sviluppo Economico, considerata l'emergenza internazionale e sollecitato dal mondo imprenditoriale, ha assegnato alle Camere di Commercio il compito di attestare la cosiddetta causa di forza maggiore legata agli eventi prodotti da Covid-19. Lo scopo è ovviamente quello di tutelare in questo modo le imprese alle quali oggi le misure restrittive di contenimento dell'epidemia hanno imposto ostacoli nella realizzazione dell'attività ordinaria imprenditoriale e nella produzione, tanto da non consentire in molti casi di rispettare i contratti di fornitura ai clienti esteri con ritardi e inadempienze nelle commesse internazionali. L'obiettivo di questa misura è quello di contenere il più possibile l'ipotesi di danni alle imprese nazionali che in questo momento si trovano nella condizione di subire la risoluzione dei contratti per inadempienze non imputabili alla propria volontà, con pagamento anche di possibili penali o mancato rientro o dei costi sostenuti per attività già realizzate. Per questo è stato previsto che, su richiesta dell'impresa, quale documento a supporto del commercio internazionale le Camere di Commercio possano rilasciare delle dichiarazioni in lingua inglese sullo stato di emergenza in Italia conseguente all'esplosione dell'epidemia Covid-19. e sulle restrizioni imposte dalla legge per il contenimento dell'epidemia stessa, auspicando così che le dichiarazioni di una pubblica autorità dia maggiore forza alle giustificazioni delle imprese verso i loro partner commerciali esteri. Cosa devono fare le imprese interessate? Richiedere l'attestazione alla propria Camera di Commercio competente per territorio in modalità telematica attraverso il canale consolidato e in uso tra Camere e Imprese per questo tipo di attività di assistenza all'export. Contestualmente devono rendere una propria dichiarazione che, in conseguenza delle restrizioni disposte dalle autorità di governo e allo stato di emergenza in atto, l'impresa non ha potuto assolvere nei tempi agli obblighi contrattuali precedentemente assunti per motivi imprevedibili e indipendenti dalla volontà e capacità aziendale. Le dichiarazioni in lingua inglese verranno poi rilasciate all'impresa in modalità telematica per essere poi diffuse ai propri partner commerciali. Dando poi uno sguardo fuori dal confine, vediamo che le misure in questione sono state già prese ed avviate in Cina all'inizio di marzo, con un rilascio di oltre 6.000 certificati di forza maggiore a società colpite dagli effetti del Covid-19. Ed anche in Cina il ruolo del certificato emesso dall'organismo nazionale cinese si limita a fornire prove del verificarsi di un evento eccezionale qual elemento utile all'analisi complessiva della forza maggiore. E analogamente si stanno muovendo anche le Camere di Commercio Europee, con le quali abbiamo avuto specifici momenti di coordinamento affinché una soluzione comune potesse garantire parità di condizioni competitive a tutte le imprese del mondo che hanno subito questa battuta di arresto e che continueranno a subirla nei prossimi giorni in conseguenza degli effetti della pandemia. Certo è che l'efficacia di queste attestazioni nella relazione del rapporto contrattuale privato tra le parti saranno poi tutte da verificare nel prossimo futuro ma ci attendiamo che in relazione alla diffusione del fenomeno e della pandemia esse possano trovare una corretta accettazione da parte di tutti gli Stati. Grazie. Ringrazio Alessandra Procesi, ricordo responsabile ufficio convenzioni internazionali per il commercio estero di Union Cameri per il suo prezioso contributo che sicuramente aiuterà tante imprese italiane. Grazie e arrivederci al prossimo contributo.